Questa mostra dedicata a Pietro da Cortona, come si inserisce nell'ambito degli eventi estivi cortonesi? Si inserisce sempre in un contesto particolare, perché la città è di suo un contesto particolare, quindi all'interno della sala del Museo Maic, dove ci saranno i disegni preparatori dell'artista che sono stati ceduti, ringrazio, dalla famiglia Agnerucci. Non solo, quindi hanno lavorato ad essa anche famosi architetti, professori. Diciamo che tutto il dettaglio è stato attenzionato e quindi auspichiamo solo che venga tanta gente, ma ne siamo già sicuri. Cortona rende omaggio a uno dei suoi artisti più importanti. Qual è il valore dell'opera di Pietro da Cortona? Il valore dell'opera di Pietro da Cortona è stato ampiamente riconosciuto, soprattutto a partire dall'Ottocento. Il classicismo aveva un po' sminuito l'opera dell'intero barocco, definendolo un eccessivo culto della forma, della luce, eccetera, eccetera. Mentre finalmente oggi si può avere chiarezza su quello che è il valore dell'opera di Pietro Berrettini e anche di tutto il barocco, di tutta la civiltà del Seicento, soprattutto nella ricerca della misura, dell'armonia delle opere e nella plasticità dell'opera stessa, evitando l'eccessiva forma di colorificio. Cortona offre un panorama artistico. Come ho avuto modo di dire, ogni straniero che viene a Cortona rischia, tra virgolette, di comprarci casa. Vuol dire che la città non solo è accogliente, ma offre mille meraviglie. Questi noi dobbiamo essere orgogliosi.